Ancora bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, resta a coda in uscita a Firenze Sud, proverendo da Bologna per lavori. Regolare il traffico altrove. Relativamente ai cantieri in Fipilitra, Monteluco ed Empoli Est, da domani 13 giugno comincia la terza fase che proseguirà fino a fine mese. In questa fase riaprirà la carreggiata in direzione mare, sulla quale si potrà circolare in doppio senso di marcia, mentre le lavorazioni si svolgeranno nella carreggiata opposta. Dal 1 luglio, pausa estiva di tre mesi, fino a tutto settembre, il cantiere verrà completamente smantellato e le carreggiate liberate. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, registriamo restringimento di carreggiata e rallentamenti per incidente in Viale Donato Giannotti. Può aver sentito Scana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.